Nel 2029 potrebbe concludersi la Orte Civitavecchia, ancora quattro anni per completare l'opera, secondo quanto comunicato da Manuela Rinaldi, Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Lazio, a margine della conferenza stampa, per la presentazione dell'avvio del dibattito pubblico per il completamento della Orte Civitavecchia. Il dibattito riguarderà il tratto Monte Romano Civitavecchia, un tratto molto complicato che è già stato oggetto di un ricorso altare, un annullamento del parere espresso nel 2018, ha spiegato l'Assessora. Il Ministero ha commissariato questo tratto stradale, ci sono delle idee progettuali sulle quali si svolgerà il dibattito pubblico del primo febbraio per trovare una sintesi anche con gli stakeholder e procedere con un progetto definitivo prima di fare la gara d'appalto. Il dibattito pubblico durerà quattro mesi e a inizio giugno si dovrebbe avere la relazione finale con l'accoglimento meno di quello che i portatori di interesse metteranno sul tavolo, ha aggiunto Rinaldi, spiegando che si tratta di un'area dove ci sono tanti vincoli e problematiche da superare. Il percorso è stato avviato su tutti e quattro i tracciati per quanto riguarda eventuali pareri sui beni paesaggistici e i vincoli esistenti. Spero entro l'anno, ha detto l'Assessora, da avere un primo progetto definitivo per poi poter avviare le gare nel 2025, dove abbiamo previsto anche la richiesta di finanziamenti specifici al MIT.